Buongiorno, ci troviamo al nuovo di Olimpia, per la quinta giornata di andata del campionato provinciale allievi Girone Chieti, tra la Virtus Castelfrentano e River Chiedi 95. Si salutano i ragazzi, la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa e River Chiedi con la maglia nera, ecco il nostro capitano Teddy Mata, la panchina mister Gabriele, il guardalini e mister Nicola, la formazione della Virtus Castelfrentano. Numero 1 Matteo Francesco Dottavio, 2 Alessio Ceroni, 3 Guido Colaizzi, 4 Cristian Nasuti, 5 Del Bello Andrea, 6 Donofrio Gabriele, 7 Gian Leonardo Emanuele Detto Lele, 8 Nicola Perrucci, 9 Amedeo Cola Nero, 10 Daniello Michele, 11 il capitano Teddy Mata. Non c'è il secondo portiere, assente, ingiustificato. In panchina col numero 13 Antonio Costantini, 14 Bartolomeo Cirillo Detto Bartolo, 15 Karan Singh e 16 Renzo Campitelli, Detto Renzetto. Signor e signori, buon divertimento.